Io voglio costituirmi. Non puoi ancora farlo. Sean se la prenderà con te, Michael. E se non riuscirà ad arrivare a te con la tua famiglia, adesso ti devi preoccupare di come restare vivo. E devi affidarti a me. Perché so come funziona. Sean avrà già radunato tutti al pub. E da lì cominceranno a distruggere la tua vita. Amici, famiglia, colleghi di lavoro. Chiunque possa farli arrivare a te. Devi ascoltarmi. Una notte. È tutto quello che ti chiedo. Ascolta tuo padre per una notte. Se non risolverò questa cosa entro domattina, andrò alla polizia e dirò che sono stato io a far fuori quei due poliziotti. Una notte. E poi non mi dovrai mai più vedere. Una notte.